eccoci al tavolo con due giocatori italiani andiamo a Polichetti, Giuseppe e Cerrone Rocco che è in un piatto eccoci al tavolo con due giocatori italiani eccoci al tavolo, ci spossiamo come potete notare non c'è nessun logo Pocassaro in quanto in Francia è vietato e andiamo in Paria ci spostiamo e scendiamo, andiamo in mezzo ai tavoli questo è il posto di Blanco che non è ancora seduto come vedete siamo al tavolo numero uno andiamo a caccia degli italiani e andiamo al tavolo numero otto raggiungiamo, vedete con me fate una passeggiata su poche ricaglie web Morice se pede che si alza viene, va a fumarsi una sigaretta fai bene avete visto un altro italiano se pede è molto complicato per noi muoverci tra i tavoli c'è tanta gente 350 iscritti a questo demo a Ept Deville vediamo che iniziamo a inquadrare ed ecco cambio che c'è dentro in una mano e ci pensa grazie a tutti c'è il colpo grazie a tutti